P-Grego, qualcuno sa dirmi cosa significa? No? Mi accontento anche di una domanda intelligente. Sì? Una mia amica ha una domanda. A cosa diavolo ci può servire saperlo e quando mai lo useremo? Ora ve lo spiego. P-Grego, il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio e questo è solo l'inizio. Potrebbe proseguire all'infinito, ma senza mai una sola ripetizione. E questo significa che all'interno di questa serie di decimali è contenuto ogni altro singolo numero. La vostra data di nascita, la combinazione del vostro armadietto, il numero di previdenza sociale, sono tutti qui da qualche parte. E se convertiste questa serie di numeri in lettere, otterreste ogni parola che sia stata concepita in ogni possibile combinazione. Le prime sillabe che avete pronunciato da bambini, il nome della persona per cui avete una cotta, la storia della vostra vita, dall'inizio alla fine, tutto quello che diciamo, pensiamo o facciamo, tutte le infinite possibilità del mondo, si trovano all'interno di questo semplice cerchio. Che ci farete con questa informazione? O a cosa vi servirà? Beh, aspetta, a voi deciderlo.